Santa Maria, Mater Dei, ora pranobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ciao a tutti, tutto bene? Io mi guoco sempre, sono sempre in giro. Oggi un'altra volta mi trovo bene, ma anche per fare un incontro speciale, speciale con Don Minutella. Adesso sono in dettaglio, vado, ciao! Quando sono entrata nella grande sala, dove tutti pregavano insieme a Don Minutella, per i bambini ho subito pensato di assistere a un evento speciale. Ho capito l'importanza e la forza di tanta gente che manda insieme energia positiva. Tutto mi ha confermato quello che pensavo di Don Alessandro. La statua della Madonna di Fatima vicino a lui mi sembrava essere felicissima. Don Minutella è sciliano e quando ero a Siracusa il mese scorso, l'ho pensato molto quando sono andata al grande santuario della Madonna delle Lacrime. Tante persone non credono ai miracoli, ma per me è già un miracolo conoscersi e vedersi attraverso i miei video. Credere nei miracoli e considerare come tali anche le cose più semplici aiutano a vivere bene. Non dobbiamo dimenticare che ogni singola vita è un miracolo. Vieni a tornare a casa. Ok, ieri sera sono tornata a casa e vi volevo dire questo. ho incontrato di persona da un minuto, io scendevo le scale e lui saliva, appena mi ha visto, mi ha parlato in giapponese, ci credi, non ci posso credere, poi lui brillava, io potevo ringraziare, potevo dare anche il regalino da Nagasaki, è stato un momento magico, mi auguro, posso dire, grazie, grazie a tutti, grazie a lui, grazie. Bene dicat vos, Onnipotens Deus, Pater e Filius, et Spiritus Santus, Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.